Buonasera e bentornati al mio canale. Vi prego di seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale, di condividere e di commentare. Questa sera faremo delle melanzane farcite. Faremo le fette di melanzane fritte dorate, le passeremo prima nella farina e poi nell'uovo e poi le farciremo al forno con della mozzarella e del prosciutto cotto. Ora procediamo a fettare le melanzane e a metterle sotto sale in una scuola pasta per far perdere l'acqua in eccesso. Abbiamo fettato le melanzane salate e astrati, ora mettiamo un piatto con un peso sopra e lasciamo stare un'oretta, così perderanno l'acqua in eccesso e poi le friggeremo. Allora, le melanzane tagliate a fette, le abbiamo infarinate, ora le passiamo nelle uova, abbiamo sbattuto 5 uova e le friggiamo in olio di semi di arachidi. Questa la chiamiamo melanzane fritte dorate. Regolatevi con la dimensione per farla entrare il più possibile nella padella. mettiamo un salva schizzi, poi le melanzane una volta fritte verranno scolate con della carta per fritti. e messi in un contenitore della Tupperware per mantenere la frittura fragrante. Ecco le melanzane che sono dorate, le scolliamo bene e le facciamo asciugate in un vassoio con della carta per fritti. procediamo così per tutte le fette di melanzane che abbiamo tagliato. vedete, una volta asciugate con la carta per fritti, abbiamo il nostro contenitore della Tupperware con del sale grosso sul fondo. mettiamo la nostra grigliata sopra e mettiamo le melanzane. il sale assorbirà l'umido eventualmente rimasto del fritto e le copriamo. ora procediamo a farcire le nostre melanzane, le mettiamo su un foglio di carta forno nella leccarda mettiamo il nostro prosciutto cotto di alta qualità con un buon fior di latte e cerchiamo le melanzane più o meno dello stesso diametro e mettiamo il coperchio ecco qua mettiamo altro prosciutto cotto fior di latte e procediamo così per tutte le melanzane intanto abbiamo riscaldato il forno a 180 gradi vedete? scegliete sempre le melanzane nello stesso diametro più o meno eh facciamo e proseguiamo per tutte le melanzane eccole qui pronte inforniamolo ecco le nostre melanzane eh facciamo la prova eccole qui guardate che spettacolo assaggiamo mmm spettacolo buonissimo 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 buonissimo